10 libri spirituali che mi hanno cambiato la vita. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare appunto di 10 libri che ho letto e in realtà, poi vi spiego, ma che mi hanno veramente dato tanto, che mi hanno cambiato la vita. Io ho iniziato il mio percorso di crescita personale quando avevo 18-19 anni, poi si è trasformata in una crescita interiore perché invece di cercare all'esterno la soluzione ai miei problemi che vedevo non arrivava, non arrivava, non arrivava, ho iniziato a fare un focus all'interno, quindi a cercare all'interno e da lì è cambiato veramente tutto. Quindi vi voglio dare un accenno ai libri che veramente mi sono piaciuti e anche darvi qualche consiglio alla fine. Ovviamente non posso stare troppo su ogni singolo libro perché sennò diventa un video lunghissimo, però cercherò di darvi qualche nozione e del perché mi ha cambiato la vita su ogni libro. Li trovate tutti in descrizione se volete dargli un'occhiata. Io sono Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, passando dalla carriera della moda come modello a content creator full time, parlo e documento la mia vita su tutti i miei social, se volete dargli un'occhiata mi potete supportare anche su Instagram e io rispondo a ogni commento, ogni messaggio, anche se avete qualsiasi domanda, documentando proprio il mio percorso verso la versione migliore di me, quindi parlando di self-care, beauty care, quindi sia a livello esteriore ma anche a livello interiore, ultimamente sempre di più a livello interiore. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure lasciate un commento, iscrivetevi al canale e iniziamo subito con i libri. Io ve li ho messi elencati nell'ordine in cui secondo me sono di priorità. Quindi il primo libro è secondo me quello che indipendentemente che tu sia spirituale, non spirituale, credente, non credente, tutti questi libri sono da prendere a mentalità aperta, non hanno da essere presi con un termine religioso, non religioso, no. Semplicemente per persone che vogliono arrivare al massimo alla versione migliore di sé e vogliono quel qualcosa della vita, non hanno ancora trovato quel qualcosa e quindi cercare quella dimensione di sé oltre al materiale. Quindi veramente non prendete questi libri con mentalità aperta, non c'è niente religioso, non vi obbligo a fare niente, però iniziamo da il primo. Il primo, ed è quello che mi ha cambiato la vita nel momento in cui l'ho letto, siccome tutti dovrebbero leggerlo, è Il potere di adesso di Eckhart Tolle, The Power of Now. Questo signore tedesco ha scritto un libro riassumendo veramente in un concetto semplicissimo che è il presente, lo stare nel momento presente, tutta la filosofia praticamente orientale di yoga, di religioni, di tutto. Praticamente il succo finale per stare bene, per stare in pace, da cui poi parte tutto, è contenuto in questo libro ed è qualcosa che lui veramente ti fa sperimentare insieme a lui. Quindi non è solo un libro di nozioni, ma veramente ti fa sperimentare queste cose. C'è anche un libro che è Come metterlo in pratica, che non è male, l'ho letto, ma questo va letto assolutamente. Io che non avevo idea di assolutamente nulla del mondo interiore, quando ho letto questo mi si è aperto un mondo. i primi due, tre, cioè le prime volte che ho veramente per un attimo staccato la testa e mi sono ritrovato nel momento presente, così semplicemente, veramente mi hanno, tac, aperto. Sono servite proprio ad aprire come quella chiave che apre il mondo interiore per te. Quindi questo ha dato un po' il via tutto. Il secondo libro, in ordine di priorità, è un libro che vi dico che io non ho personalmente ancora letto, ma che tutti dovrebbero leggere perché io ho fatto il corso, l'ho fatto due volte, e questo è un po' il libro del corso che ho fatto. È di un personaggio che seguo molto, se mi conoscete. Io faccio il suo tipo di crescita, di percorso spirituale, che è lo yoga. Yoga non è solo quel twisting and turning che fanno le mamme incinta in palestra. Yoga è una tecnologia, è una forma per cui... Yoga vuol dire unione in sanscrito e quindi potrei fare un discorso lunghissimo, però comprende veramente uno stile di vita per arrivare alla liberazione finale, quindi alla versione migliore di se stessi, arrivare veramente a superare la propria forma fisica, o comunque, almeno se non si vuole arrivare a un livello tale, ad arrivare a stare bene, a essere in pace, amore e gioia. Yoga vuol dire unione, quindi sperimentare se stessi, fare esperienze di se stessi e di tutto il resto come una cosa unica, vedere le cose come stanno. E uno yogi, qualcuno che segue il percorso dello yoga, la via della liberazione, ci sono 118 modi, tra cui anche quello fisico, Hatha Yoga, è Sadhguru, uno yogi, che è lo yogi, secondo me, all'unimento uno dei più importanti al mondo per il percorso e il lavoro che sta facendo a livello mondiale, e lui ha scritto questo libro e ha fatto un suo corso che si chiama Ingegneria interiore, proprio per dare dei tool, proprio delle cose alle persone, degli strumenti, per cui stai male, è semplicemente perché il tuo intelletto, la tua mente, il tuo corpo, invece che lavorare con te, per te, sono contro di te. Quindi qua ti insegna a dire, ok, sono contro di te, perché sei, invece che essere consapevole, sei compulsivo, perché non hai letto lo user manual, quindi il manual di istruzioni. E questo è il manual di istruzioni, per imparare veramente a stare bene e a diventare consapevoli. Terzo libro, e devo accelerare un po', è sempre di Sadhguru, ed è Karma. Questo libro, se forse doveste leggere un libro che comprende un po' tutto, comunque un libro da seguire, io forse consiglierei Karma. Karma non è quello che si pensa di, ok, la legge di causa-effetto, è qualcosa di molto più profondo qualcosa, è proprio una legge che è sotto a tutto, proprio alle meccaniche, al meccanismo di come funziona il processo di vita, e anche il nostro processo psicologico, mentale, noi abbiamo proprio un corpo karmico, un bagaglio di memoria che noi ci portiamo e delle tendenze che ci portano ad agire in un certo modo. E questo ti spiega veramente a non essere influenzato dal Karma, o comunque a diventare padrone del proprio destino. Quando riesci a diventare consapevole, eliminare queste compulsioni, quindi crearti queste tendenze a modo tuo, in modo consapevole, e scegliendo, automaticamente diventi padrone del tuo destino. Quindi questo è un libro importantissimo. L'ho letto in un momento in cui veramente mi sterviva e mi sta aiutando ancora tuttora. Il quarto è un libro, diciamo abbastanza uno dei libri religiosi che consiglio, che in realtà non è religioso se letto con la chiave giusta, ed è il Bhagavad Gita. Questo è uno dei libri importanti nella filosofia o religione comunque induista, ma nella cultura indiana in generale. L'India, ragazzi, secondo me, e non è solo secondo me, è proprio la patria, è diciamo il womb, il grembo della spiritualità nel mondo. Tutto ciò che è spirituale, veramente è partito, anche le religioni, tutto da quella zona dell'Asia, ed è incredibile. Il Bhagavad Gita è un libro antichissimo che va proprio a raccontare, con una metafora, di Krishna, che rappresenta la parte nostra interiore divina, Dio, consapevolezza, consciousness, chiamala come ti pare, e la parte umana, quindi Arjuna, che ha un conflitto con la propria famiglia, quindi deve combattere i suoi fratelli, vincere una guerra contro la sua famiglia, e quindi ha questo dialogo mentale che è con Krishna, quindi con la sua parte interiore metaforicamente, in cui gli fa domande esistenziali, di morale, non morale, di legge, non legge, cose molto profonde, e Krishna gli dà, diciamo, le chiavi, gli spiega esattamente cosa deve fare e che cosa deve fare un essere umano per arrivare alla liberazione. Quinto libro che mi ha colpito molto, spirituale, è la line di The Secret, quindi non solo The Secret, ma The Magic, The Power, Hero, eccetera, eccetera. The Secret è il primo che, secondo me, va letto Il Segreto, libro famosissimo sulla legge dell'attrazione, un po' wishy-washy, però alcune cose le dice correttamente, e secondo me dà, a livello occidentale, un po' superficiale, però una spiegazione a un qualcosa di molto utile per chi vive in società come noi e non siamo semplicemente dei monaci in mezzo a nulla, ci fa capire che mettendo il focus di mente, corpo, energie e tutto verso una direzione, si può veramente manifestare un tipo di realtà che vogliamo, e quindi ti insegna un po' quella cosa che magari non è un focus di altri libri un po' più profondi perché non vanno tanto a parlare del mondo materiale, vanno più a parlare di altre cose, quindi diciamo che questa può essere una versione, un manuale, un manuale how to di come sfruttare questa cosa, i nostri meccanismi di corpo e mente, queste nostre accumulazioni, per arrivare anche a manifestare quello che vogliamo nel mondo esteriore. The Power invece va a parlare dell'amore, The Magic, della gratitudine, Hero è un po', forse un po' troppo sull'ego, però è anche quello molto utile, va proprio a motivarti un po' sull'idea di creare questa storia dell'eroe all'interno del tuo percorso, insomma sono molto carini, anche l'ultimo che ha fatto è molto carino. Il sesto libro invece è un libro che ho letto recentemente che mi è stato donato in realtà da quello che l'ha tradotto, il ragazzo che l'ha tradotto in Italia, è un libro che non conoscevo, scritto all'inizio del Novecento da questo filosofo, poeta, artista, era considerato un genio all'epoca, libanese, Khalil Gibran ed è il profeta. È un libro ragazzi che non so cosa dirvi, è diventato il mio nuovo libro preferito, non so neanche il perché in realtà, non è un libro manualistico, è completamente diverso da quelli che vi ho fatto vedere finora, è un libro in realtà in cui viene spiegata una storia, c'è proprio una storia in cui questa persona, questo profeta è su quest'isola, ci è stato per 20 anni e delle barche stanno tornando, stanno andando a prenderlo per riportarlo nella sua terra madre e mentre quindi parte in media stress e quando si alza e vede dalla collina queste barche che stanno arrivando si incammina per il villaggio dove è abitato di quest'isola per questi 20 anni e la gente inizia ad accoglierlo, gli abitanti del villaggio iniziano a dargli incontro per salutarlo e dargli un addio e gli dicono prima di andare via tu che ci hai aiutato tanto o saggio dacci un ultimo consiglio, parlaci della tua verità un'ultima volta e quindi lui dice ditemi di che cosa devo parlare e si alza una madre e dice parlami dell'amore l'altro si alza e dice parlami della figlia cioè della famiglia parlami dei soldi parlami della sofferenza parlami della pace quindi va veramente in un libricino piccolissimo a dare una barra due pagine in poesia quasi su argomenti e metafore su argomenti molto importanti e quindi è un po' una visione saggia su ogni singolo aspetto della società della vita ma mi ha veramente colpito tantissimo mi sono commosso un sacco di volte leggendolo ti va proprio a toccare con le parole perché sono parole e metafore io consiglio in inglese anche se in inglese è un po' particolare un po' antico ti va proprio a colpire e a farti capire cose che in una spiegazione manualistica fai fatica a capire e ci sono veramente metafore pazzesche gli ultimi quattro libri vado un po' più veloce questo è DEF è un libro che in realtà sto ancora leggendo e mi sta piacendo tantissimo è un libro in realtà per tutte dedicato a tutte le persone che devono morire questo è il marketing del libro è un libro sempre di Sadhguru però va veramente da un punto di vista yogi a parlare di tutto ciò che riguarda la morte e io sto facendo un percorso mio in cui ogni mese nella mia routine mensile vado a lavorare su una delle mie paure su uno dei miei limiting beliefs e a lavorarci per quel mese lì e sono arrivato a un punto in cui la paura madre diciamo della maggior parte delle paure è proprio la paura della morte quindi sto lavorando anche su quella e per quello ho comprato questo libro che mi ispirava tantissimo e va veramente a darti informazioni che non conoscevo va proprio a spiegarti tante cose e ti dà veramente una sensazione di molto sollievo di leggerezza nel momento in cui ti accorgi e accetti il tuo essere mortale quindi poi le meditazioni che faccio tutto quello che sto facendo con questa consapevolezza e con queste informazioni anche e poi le fai veramente con la share and dare ancora di più perché accetti questa cosa veramente e quando lo accetti invece che ingigantiare tutto con la tua testa con il tuo ego le cose tornano a prendere il peso che veramente hanno quindi veramente ti dà chiarezza sulla vita stessa ed è incredibile non c'è vita senza morte è un tabù moltissima gente evita anche solo la parola e quindi avere un libro così che in realtà è una parte fondamentale della vita di tutti veramente aiuta tanto ultimi tre libri questo era il mio libro preferito prima di Il Profeta anche questa è una storia all'alchimista di Paolo Queio questa è semplicemente una parabola in una storia di un ragazzo che va a fare un percorso molla tutto e va a fare un suo percorso di crescita interiore per cercare un obiettivo che nel suo caso sono le piramidi perché ha fatto un sogno e pensava di trovare un tesoro lì e poi c'è tutto un plot twist e tutte le persone che incontra nel deserto in questo ambiente è un po' inusuale un po' esotico lo aiutano quindi sono tutte metafore molto 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 bello è anche il libro preferito di Will Smith l'avevo letto tempo fa quando sono stato a Los Angeles mi è piaciuto un sacco e secondo me è un must read penultimo libro anche questo devo ancora leggerlo purtroppo ma so già di cosa parla ed è Yoga Sutras di Patanjali Yoga ragazzi secondo me è la base della spiritualità in generale è un po' la spiritualità senza etichetta un'etichetta di una religione vista molto in modo pragmatico e secondo me e anche molti yoghi dicono che chi che qua dentro praticamente c'è scritto tutto tutto quello che c'è da sapere è contenuto in questo libro quindi io mi fido so già di cosa parla e secondo me io ho letto altri libri di crescita interiore che potevo mettere potevo mettere il metodo Wim Hof potevo mettere pensare positivo anche se non sono libri proprio spirituali però comunque di crescita interiore potevo mettere non so ce ne sono tantissimi anche semplicemente Youth and Truth di Sadhguru ce ne erano tanti 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 però questo secondo me va messo lì e l'ultimo è un libro da Midnight with the Mystic su questo non so neanche di cosa parlarvi è semplicemente un racconto molto molto bello in prima persona di una persona che ha incontrato un mistico e ogni notte ci faceva un dialogo in cui si parlava di cose profonde ed è quello che mi ha veramente fatto capire che ok voglio anch'io diventare quel tipo di persona arrivare a questa versione migliore di me stesso quindi qua ragazzi senza rendere il video troppo lungo in realtà ci sono altri libri extra come quelli che vi ho detto e secondo me anche la Bibbia o il Corano dicono che siano libri bellissimi che leggerò sicuramente solo che ho dato un'occhiata alla Bibbia sono 600 pagine e scritte tutte in piccolissimo mannaggia e anche in inglese è un po' difficile quindi prima o poi le leggerò anche A Way of the Peaceful Warrior ho lì da leggere l'autobiografia di uno yogi quindi ne ho ancora tanti da leggere però questi sono quelli che ho letto che mi piacciono e se volete vi lascio in descrizione date un'occhiata e fatemi sapere qual è il vostro preferito ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao